L'Abruzzo Terramano è uno scrigno di tesori. Poco lontano da Giulianova, a metà strada tra i Monti Gemelli e il mare, Campli, antica città farnesiana, sede Vescovile dal 1600. L'Abruzzo Terramano è uno scritto di tesori. Quando si entra a Campli si notano subito le caratteristiche che ne fanno una vera e propria città d'arte. A cominciare dalla piazza sulla quale prospetta il Palazzo del Parlamento, il primo edificio pubblico probabilmente di tutto l'Abruzzo e in questo stupendo palazzo in arenaria che si tenevano ai consessi della città di Campli. A presto! A presto! Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti.